Mi chiamo Ricchi e i miei amici mi chiamano il Petraio perché dicono che i sassi sono il mio pane. Ho 46 anni e faccio l'operatore da circa 30. In realtà anche da prima, visto che già da quando avevo 5 anni passavo le giornate in cantiere seduto sulla 988 con mio papà. Era un bel modo per trascorrere il tempo con lui e forse è anche per questo che ho il marchio canne al cuore. Mi ricordo uno dei primi lavori che ho fatto da solo con un K225. Era una scogliera e avevo appena 17 anni. È stata un'emozione che ho dentro ancora oggi. Da allora di tempo ne è passato tanto. Quanti sassi ho spostato. A volte mi capita di passare dove ho lavorato e i risultati si vedono ancora. Questa è una delle soddisfazioni più grandi. Nel tempo sono cresciuto sia io che le macchine. Dal 225, al 320BS, al 325B, il 325C, poi il 323D, il 336E e adesso questo. Il 336E è un X-Gen. Tutti i K2, ovviamente. Le macchine si sono evolute molto. Ogni nuova serie ha fatto un passo avanti, sia come comfort che come tecnologia. Ma questa ha fatto veramente un salto avanti incredibile. Il 336E è molto veloce, confortevole. I servocomandi sono molto sensibili e precisi. La macchina, nonostante la sua stazza, risponde in maniera perfetta. A volte mi sembra di essere un chirurgo. La cabina è uno spettacolo. Dopo un'intensa giornata di lavoro, scendi che non te ne accorgi. I monitor, inoltre, sono belli grandi e danno accesso a tante informazioni utili, che posso gestire facilmente tramite comandi semplici. Poi, per i lavori che faccio io, spesso con pendenze importanti, la macchina è molto stabile, ha una bella forza. Rispetto alla serie E, ho notato un bel risparmio di carburante a fronte di una maggior produzione. Io non sono mai stato un amante della tecnologia, però devo dire che su certi aspetti devo ricredermi. Ad esempio, con il 3D non ho bisogno di avere riferimenti sul posto e si possono fare modifiche al progetto, che poi vedo direttamente sul monitor. Per me CAT è un marchio che ha una garanzia, così come l'assistenza di CGT. La professionalità dei tecnici con cui ho un rapporto molto diretto. Se ho bisogno di qualcosa ci sono sempre e questo mi fa stare ancora più tranquillo. Amo questo lavoro, è una passione che ho fin da bambino e avere la fortuna di farlo con il mio marchio del cuore è il top. Grazie a tutti.